E' l'atticità delle corde, guarda che è il microfono, se vuoi dire qualche cazzata può. L'atticità delle corde, volevo dire solo questo. Bene, allora, visto che noi siamo dei brutti, ma in realtà siamo anche dei grandi deficienti, quindi intervalleremo con simpatici siparietti e uno, tutto, e hai ancora? E' l'atticità delle corde, l'atticità, spara cagate! Tendo, tendo la corda, tendo la corda. Bene, questa è la prima delle... Papà, ma posso guardare i cartoni? Papà, posso guardare i cartoni? No! Sei bravo! Papà? Ho ucciso il gatto. Va bene, guardiamo i cartoni. Ma c'è un braccio? Prego! Ma c'è un braccio? No! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ma la mente mi sentiva, ma tutto il resto fa da te Non conosce la paura, metta il dolore, che cos'è L'occasione si rialza e sempre si c'era Pazzicca 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 E questo la prima del video Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.